All'Africchigno è uno spettacolo che parla di tre storie che si uniscono, anche se sembrano molto distanti tra di loro. La vita di Carcobain, idolo di tanti ragazzini dell'epoca come noi, come me e come tanti altri. Zeman, che è stato un grandissimo allenatore di calcio e lo è ancora, anche se ha una certa età. La mafia foggiana, che io essendo di Foggia ho vissuto in maniera purtroppo negativa, subendola come tanti cittadini. Queste tre storie hanno un punto in comune, non è soltanto un racconto generazionale, non è un racconto malinconico di come eravamo quando eravamo più giovani, ma unisce tre storie che hanno tante emozioni in comune. Questo è fondamentale all'interno di Frichigno, che è una parola che ho scoperto essere anche usata da queste parti e questa cosa è bellissima, perché poi le parole chissà da dove vengono e come sono arrivate poi a destinazione. Il Frichigno di Foggia arriva addirittura dai soldati americani, così si tramandano, poi lo spiegherò in scena. Definisce quando in una partita di ragazzini, tra ragazzini, il portiere prendeva la palla con le mani fuori dalla propria area, non faceva nulla per far vedere il suo errore, ma qualcuno gli urlava Frichigno perché l'aveva visto. Insomma, voleva fare il furbo e mi sono reso conto che è simile come significato. Quindi Piccola Compagnia Impertinente, siamo molto felici di essere qui grazie al collettivo Controli e a tutti quelli che verranno a vedere lo spettacolo. Questa sera ospitiamo Piccola Compagnia Impertinente di Foggia, con uno spettacolo molto territoriale che ci racconta delle loro origini, della loro città. Piccola Compagnia Impertinente ci racconta per la prima volta in teatro la storia della mafia foggiana, chiamata La Società. Il racconto è fatto attraverso due figure iconiche degli anni 90, Zeman, che fu anche allenatore del Foggia, e Kurt Cobain. Chiudiamo poi la parte coriglianese e la rassegna si trasferirà a Cosenza. Cominciamo il 7 aprile, alle 19 al Teatro Silvio Uozzo, allo Spirito Santo a Cosenza, e da lì poi avremo altri appuntamenti che ci accompagneranno fino a giugno. In questo weekend chiudiamo l'esperienza a Corigliano di Voce dal Sottosuolo, di cui siamo molto molto contenti, sia per l'acquiglianza del pubblico nelle serali, e soprattutto forse per i ragazzi che la mattina stanno venendo a vedere gli spettacoli e con i quali abbiamo un confronto su quella che è la visione, quelli che sono i codici specifici del teatro, in cui possono fare conoscenze, possono fare domande agli attori che si esibiscono davanti a loro, che fanno la loro proposta artistica. Chiudiamo qui, ma cominciamo subito poi su Cosenza, Voce dal Sottosuolo, che per sottotitolo, proprio per questo, si chiama rassegna itinerante di teatro in inversione, perché vogliamo che sia una proposta di spettacoli che possano essere messi in scena su più piazze sul territorio regionale. Quest'anno finalmente siamo riusciti a dare la forma che intendevamo a questo progetto. Partiamo anche su Cosenza con Frichigno, di piccolo compagno impertinente, poi si continuerà con 141 di Maria Silvia Greco e Delvira Scorza, che sono due attrici e autrici giovani, originari calabresi, ma che hanno girato un po' tutta Italia, hanno fatto formazione teatrale in grandi scuole, che ritornano qui a fare la loro proposta con un progetto nuovo, ancora in forma di studio, che sta prendendo forma man mano che riescono a incontrare il pubblico, poi Smart Work, di Mammut Teatro, con Francesco Rizzo, unico attore in scena, gli autori sono Armando Canzonieri e Gianluca Vetromilo, e Vetromilo stesso si è occupato della regia, è uno spettacolo che già ha fatto un po' di repliche sul territorio regionale, ha avuto un ottimo debutto al Festival di Primavera dei Teatri, era in forma studio all'epoca, adesso è stato chiuso, è uno spettacolo completo, ed è per la prima volta a Cosenza. Il cuore della curva su, bandieri aperto e braccia in su, il nostro canto stare mai insieme a voi, Per la curva su, bandieri aperto e braccia in su, il nostro canale,